Cadet Caprio, vai per tono, vi offre. A carnevale ogni scherzo vale. Noi per carnevale siamo stati invitati ad una festa molto struttura. E fu subito Halloween, la notte delle streghe. Quest'anno mi potrei travestire da eticola. Non voglio vestirmi da buste. Non so mica più un bambino. Il carnevale è intelligente. Io sai che ti dico? Che c'ho nostalgia dei bucci e dei suoi scherzi di abita prete. Come l'hanno detto? I ragazzi della terza C. Martedì alle 20.30 su Italia 1.